Se dici il mio cervello, significa che è tuo. Ciò che è tuo non può essere te, giusto? È un termine colloquiale che usiamo perché ho bisogno di riferirmi a questo qui dentro. Queste sono impressioni che abbiamo assimilato. Penso che ci sia una possibilità che sia esattamente ciò che accade. Se uno fa questo, allora vedrai. La percezione esploderà in modi che non hanno immaginato possibile. Cos'è il tu che può essere separato dal fisico? È un fatto che hai accumulato il tuo corpo durante un periodo di tempo. È un fatto che questo corpo si è accumulato durante un periodo di tempo e potrebbe essere che io emerga in quanto conseguenza di questo. Questa sensazione di io in opposizione a me che compio l'accumulo. Dimmi, hai pranzato e cenato? Se ho pranzato e cenato? Sì. Sì, questo accumulo dinamico ha mangiato molto, sì. Quindi, ciò che chiami il mio corpo adesso è un accumulo di cibo, un mucchio di cibo. Non è un modo piacevole di descriverti, ma lo è. Ciò che chiami la mia mente, in gran parte, nell'esperienza delle persone, è un accumulo di impressioni durante un periodo di tempo. Quindi, se devi accumulare così tante impressioni e così tanto corpo, qualcosa di più fondamentale deve essere lì, non è così? Houston, in Texas, è un accumulo di strade e di edifici. Ma non diremmo che ci sia... che Houston sia lì e hanno accumulato... Non sei un pezzo di geografia. Non sei un pezzo di geografia, lo sei. Potrei essere esattamente quello, un essere fisico. Ti dirò perché, dalla mia prospettiva, quella sembra una possibilità. È perché stiamo di fronte al più grande centro medico al mondo e ogni giorno ci sono migliaia di persone lì la cui geografia sta cambiando a causa di Alzheimer o Ictus o Tumore o danno cerebrale traumatico e chi sono cambia. Non sembra che ci sia qualcosa di fondamentale che sopravvive ai danni e ai tessuti. Vedi, stai parlando di pensiero ed emozione. L'errore più grande che abbiamo fatto è... abbiamo dato troppa importanza al pensiero umano. Qualunque cosa tu pensi, accade solamente dai dati limitati che hai raccolto. Sì o no? D'accordo. Sì. Quindi, i dati che tu ed io abbiamo raccolto, per quanto estesi possiamo pensare che siano, il rapporto al cosmo è minuscolo. Non è niente. Non ha davvero nessuna importanza. Da questa minuscola quantità di dati che abbiamo raccolto, stiamo generando qualche pensiero che potrebbe essere utile per fare la nostra vita. utile nel creare alcune cose. Utile fondamentalmente per la nostra sopravvivenza e il miglioramento del nostro processo di sopravvivenza. Tutto questo. Ma non ti dà accesso alla vita. Pensiero ed emozione sono dramma psicologico che accade dentro di te. Puoi condurlo in qualsiasi modo vuoi. Parli di qualcuno che ha avuto un tumore o l'Alzheimer o un incidente o altro e il loro dramma è andato storto. Il dramma può andare storto anche senza nessuno di questi disturbi. Chiedi alla gente. Il dramma delle persone va storto senza alcun incidente o lesione o disturbo. Semplicemente così. Il dramma va storto ogni giorno per molte persone. Di solito gli diamo un nome però qualcosa come depressione o crollo psicotico o qualcosa. Quello è un business. Non uno sul quale io faccio dei soldi. Dico che c'è solo questo. O le tue facoltà prendono istruzioni da te o sono diventate compulsive per qualche ragione. Va bene? O il tuo corpo e la tua mente li puoi condurre consapevolmente oppure sono diventati compulsivi. Sta accadendo solo questo. Che lo chiami disturbo fisico, disturbo mentale. E' accaduto solo questo. Le tue facoltà fondamentali di esistenza su questo pianeta sono il tuo corpo e la tua mente. Su queste due cose hai perso la presa. Quindi può diventare questo tipo di disturbo o quel tipo di disturbo o quant'altro. Ma fondamentalmente hai perso il controllo. E' accaduto solo questo. Se il tuo corpo e la tua mente prendessero istruzioni da te creeresti depressione, creeresti malattia, creeresti qualunque cosa, creeresti il massimo livello di piacevolezza per te. Non è così? Lo faremmo sicuramente se ci fosse un te separato che può assumere quel controllo. Vedi, ci possiamo arrivare così. C'è qualcosa che si chiama... perché vedo che continui a dire il mio cervello. Se dici il mio cervello, significa che è tuo. Ciò che è tuo non può essere te, giusto? È un termine colloquiale che usiamo perché ho bisogno di riferirmi a questo, qui dentro. Devo specificare di quale cervello sto parlando. Vedi, quando dico la mia mano, so che anche senza la mia mano posso ancora esistere. Allo stesso modo, se certe parti del cervello sono andate, la nostra capacità di pensare e sentire come facevamo prima può essere andata. eppure quella persona non è andata. Questa è la domanda. Se perdo una piccola parte del mio dito, sono ancora io. Ma se perdo un pezzo di tessuto cerebrale della stessa taglia, posso essere qualcuno di completamente diverso? Posso perdere... No, no, parli della personalità. La personalità è di nuovo una cosa acquisita. Oltre la personalità, posso perdere la memoria, posso perdere consapevolezza, certamente. Posso perdere la capacità di percepire la realtà, come facciamo adesso. Potrei diventare dal tonico a causa di una lesione. Per un danno a una certa parte del mio cervello, perdo la capacità di capire cosa gli oggetti sono. Ok, veniamo a questo. Vedi, supponiamo che qualcuno sia diventato dal tonico a causa di una lesione o qualsiasi cosa sia successa a loro sfortunatamente. Quella persona comunque sa, sono diventato dal tonico. Non è così? E' ancora lì. E' vero per la persona che diventa dal tonica, ma non è vero, per esempio, una persona che è nata dal tonica, non hanno neppure il concetto che potrebbero essere... Non hanno un concetto del colore. Prendiamo una persona che è nata completamente cieca, non hanno neppure il concetto di visione, allora chi è il tu per loro? Vedi, anche una persona con un deficit visivo, che non ha mai visto il mondo intorno, esiste comunque dentro se stessa. E' tanto uomo o donna quanto chiunque altro può esserlo. E' solo che se tutti noi fossimo ciechi, saremmo davvero una buona società, senza occhi. Sì, non è così? Solo poiché qualcuno ne ha e io non li ho, nel confronto io ho un problema. Altrimenti, se nessuno di noi avesse occhi, pensi che non avremmo trovato il modo di adattarci? Lo avremmo fatto. Magari non lo stesso modo, in un modo diverso. Oh, sono del tutto d'accordo, perché in così tante dimensioni... Ci sono mammiferi che volano con il suono? Sì, ci sono così tante dimensioni a cui siamo ciechi al momento. Quello che chiamiamo luce visibile è solo un decitrilionesimo dello spettro elettromagnetico che c'è là fuori. Ne percepiamo solo un po'. In alcune branche della fisica sembra che possano esserci dalle 10 alle 13 dimensioni spaziali, non solo queste tre. Eppure noi ci siamo intrappolati. Ci stiamo allontanando dalla consapevolezza verso la percezione. Ma il mio punto è che siamo già ciechi alla maggior parte del mondo, quindi sono d'accordo con te che... Ok, torniamo alla percezione. Non puoi dissentire che sei vita. Lo sei. Sei un pezzo di vita. Io sono un pezzo di vita. Ognuno lo è. Che tipo di personalità abbiamo acquisito? Che tipo di mi piace e non mi piace abbiamo acquisito? Che tipo di divinità e demoni abbiamo acquisito? Che tipo di altre cose abbiamo acquisito? È un processo sociale che ci è accaduto. Un processo culturale e sociale. Se fossi nato in una parte diversa del mondo, sarebbe completamente diverso. A seconda di ciò a cui siamo esposti, queste sono impressioni che abbiamo assimilato. Una quantità fenomenale di impressioni. Lasciando quello da parte, osserviamo una cosa fondamentale. Qualunque cosa tu accumuli, puoi solo rivendicare è mia. Non puoi dire sono io. Non è così? Qualunque cosa tu accumuli. In che senso vuoi dire? Vuoi dire il tuo corpo? Qualunque cosa. Qualunque cosa. Posso dire questa è la mia sedia? Se mi siedo qui ogni giorno, poi dico questo sono io, allora c'è un problema. Penso che ci sia una possibilità che questo sia esattamente ciò che accade. Che le cose che questo pezzo di vita può controllare diventano me. Il motivo per cui penso che sia la mia mano è che la maggior parte delle volte è sotto il controllo... La mia mano va bene. Nessun problema. La mia mano è ok. Me è il problema. Cosa hai detto? Me? La mia mano significa che appartiene a te. Nessun problema con questo. Quando diventa me, allora porta a una completa distorsione della percezione. Ok, quindi stai parlando di identità. Come ti identifichi? Sì. La natura della mente è tale che sta cercando qualche... Perché l'intelletto umano e l'intelligenza umana si sono staccati da un certo legame che c'era per ogni altra creatura, che potevano funzionare come una macchina automatica tramite certi processi istintivi. Quello che è successo con l'essere umano, con il processo dell'evoluzione, è che l'essere umano si è sganciato da quel processo istintivo. E c'è un'intelligenza che deve funzionare consapevolmente. Ma funzionare consapevolmente significa che ogni momento della vita è un'esplorazione, il che fa troppo paura a tante persone. Quindi la cosa migliore è di identificarsi con qualcosa che ti dà un certo senso di ciò che sei. Ma questo senso di ciò che sei, che hai assunto basandoti sui tuoi contesti sociali e culturali, ciò che hai assunto ha senso per il tuo processo di sopravvivenza, ma non per il processo esplorativo. Non esplora la vita. Ti mantiene sano. È una buona consolazione. Ti mantiene... Ti aiuta a dormire bene di notte. Ma non risveglia una diversa dimensione di conoscenza. Non risveglia la possibilità di esplorare dimensioni che non sono ancora dentro di te. Se questo deve accadere, la cosa più importante è essere capace di stare seduto qui, non identificato con niente. Quando ho detto che è così difficile rimanere non istruito in questo mondo, perché tutti sono impegnati a volerti insegnare qualcosa, ho fatto solo questo nella mia vita, a restare non istruito, non essere influenzato dai genitori, dalla famiglia, dalla religione che accade intorno a te, dalla cultura che accade intorno a te, e dall'istruzione che la gente impone su di te. Essere solamente come la creazione intendeva che tu fossi. Semplicemente. Vedi? Potrei non essere adatto all'ambiente universitario, ma sto bene, sai. Semplicemente come sei nato. senza intrappolare la tua intelligenza in nessuna cosa in particolare, che sia la tua nazionalità, o la tua religione, o la tua razza, o il tuo credo, o la tua famiglia, o qualsiasi tipo di identità, o il tuo genere, o altro. Semplicemente essere capace di vedere la tua vita solo come un pezzo di vita. Se uno fa questo, allora vedrai. La percezione esploderà in modi che non avevano immaginato possibili. La percezione esploderà in modi.